Dunque Federico, insomma mancano due prove alla fine, quattro punti di differenza rispetto ad Argo, battaglia completamente aperta ma non sarà una lotta a due comunque. Ma guarda, cercando di andare un po' contro il trend dell'ultima intervista non abbiamo chance. No scherzo, siamo molto contenti, abbiamo risolto un paio di problemini che avevamo, stiamo regatando sereni, stiamo cercando di mettere un piede davanti all'altro, penso che ci stiamo riuscendo, domani siamo tranquilli, cerchiamo di regatare bene, Vasco e Eris stanno facendo un lavoro incredibile, è veramente una poesia sentirli lavorare di bolina e stiamo colmando un po' di gap che abbiamo accumulato a metà stagione, quindi sono molto sereno, domani è un giorno nuovo e sono felice di essere dove siamo e sono sicuro che cercheremo di fare il massimo che possiamo. Tre successi in due giornate, in una flotta così competitiva non sono cose da tutti i giorni, la chiave di volta è il lavoro di Vasco e di Henry Melge a Sarananda oppure è cambiato proprio qualcosa anche nella mentalità del team? No, diciamo che abbiamo incominciato da Dio, abbiamo sfruttato al massimo il piccolo gap che avevamo su quelli che non avevano lavorato durante l'inverno, quelli che non avevano lavorato durante l'inverno hanno migliorato molto, noi siamo rimasti un po' dove eravamo, abbiamo avuto un po' di problemi di equipaggio, abbiamo fatto delle scelte molto difficili, rischiose, però erano assolutamente doverose e penso che questo risultato lo dimostri, sono Henry un amico da sempre e anche il mio capo, quindi devo cercare di portare il massimo rispetto, Vasco lo conosco da 25 anni, è migliorato in maniera esponenziale negli ultimi anni, abbiamo fatto tanti anni senza andare in marchio insieme, è veramente cresciuto tantissimo, è bello vederli lavorare perché uno è fuori dalle righe e tira fuori sempre qualcosa dal cappello, l'altro invece è molto solido, molto tranquillo, stanno lavorando molto bene insieme e noi ci godiamo lo spettacolo di vederli lavorare. Ultima domanda, so che adesso hai un debriefing, ma quando si fanno tre primi in due giorni cosa ci si racconta durante il debriefing? Il nostro debriefing è quello che ci siamo detti appena finito la regata di oggi, stiamo calmi, sono tutti molto bravi, è facilissimo sbagliare, rimaniamo focalizzati, continuiamo a cercare di migliorare, credo che fare dei primi o fare degli ultimi in questa flotta sia molto facile, dipenda un po' anche dalla fortuna, oggi siamo stati credo mediamente fortunati, abbastanza veloci, con delle scelte tattiche estremamente intelligenti, quindi bisogna continuare a crescere perché come abbiamo dimostrato noi a metà stagione che abbiamo un po' dormito, se dormi non vai avanti. Grazie a tutti.